Barone Vassallo, siamo al 12, 12 aprile 2023. Buonasera a tutti. Allora, capita a volte che mi trovo a leggere i messaggi, i messaggi lasciati su Messenger, i quali purtroppo io molto spesso non ho le notifiche, non so perché, e sono andato a leggere alcuni messaggi che mi sono arrivati e tra i più interessanti c'erano tante persone che parlavano dei nuovi blocchi nelle città per le autovetture sotto Euro 5, credo sia. E quest'oggi già si parlava del fatto che a Roma saranno messe delle videocamere, saranno messe delle videocamere ad ogni entrata della città, come Torino, come credo anche Milano, non so esattamente, non li conosco, e naturalmente anche tante altre domande, chi mi chiede del nuovo speed, chi mi chiede dei nuovi obblighi, chiamiamoli così, per ora sono soltanto delle supposizioni di tante cose, o anche addirittura mi si chiede del fatto che si possano dare l'adozione i bambini a determinate persone e tutto quanto. E allora credo che sia arrivato il momento di parlare, parlare attentamente di questo. Veniamo da un periodo in cui è stato tolto il segreto bancario, veniamo da un periodo in cui sono state tolte le agevolazioni per le autovetture oltre un tot di anni. Veniamo da un periodo in cui, nonostante la crisi economica, nonostante poi crisi economica, vi ho sempre detto che non è crisi economica, perché? Quale crisi? In realtà è lo Stato che sugli stipendi, sulle attività commerciali, sulle aziende, sulle imprese, su tutto, si porta via più del 70% dei guadagni, degli incassi. E quindi, in un periodo così strano, in un periodo in cui poi abbiamo visto tante attività obbligate a rimanere chiuse, abbiamo visto persone perdere il posto di lavoro, abbiamo visto aziende fallire, abbiamo visto quanto di più nefasto e quanto di più assurdo poteva esserci in una nazione moderna. E quindi tutti mi chiedono, ma cosa possiamo fare adesso per il blocco, addirittura adesso le automobili vengono monitorate all'entrata della città, che poi in realtà non è neanche l'entrata della città, perché ad esempio qui a Roma è l'entrata del raccordo anulare, o comunque l'entrata delle parti molto spesso anche popolari della città. La risposta è tutta qui ragazzi, la risposta è tutta in questo simbolo. Se voi pensate che ci siano i partiti odierni, abbiamo visto governare la città, parlo per Roma, da Alemanno, abbiamo visto governare la città dalla Raggi, abbiamo visto governare la città da Gualtieri, e hanno praticamente fatto tutti lo stesso percorso, hanno fatto tutte le medesime cose. Se voi pensate che al governo centrale, adesso che c'è la Meloni, cambi qualcosa, sbagliate di grosso. Sbagliate di grosso perché in queste persone non c'è più quella voglia di cambiare, perché loro appartengono a un sistema, un sistema radicato, un sistema che ha dimostrato di non avere remore a istituire le peggiori restrizioni per i cittadini. Probabilmente anche un sistema che ha visto in tutti questi anni dell'alternarsi di destra, sinistra, di centro, di partitacci come Movimento 5 Sterchi e via così, praticamente hanno visto che le persone, la popolazione, non si muoveva per nulla. Agli italiani bastava la domenica di calcio, bastava il piatto di pasta durante la settimana, bastava la pizza il sabato sera o la discoteca o il sushi che adesso va tanto di moda, bastava le manifestazioni e le GDP e tutto si poteva fare senza alcun problema, senza alcuna remora. e tutto questo è stato praticamente il percorso che ci ha portato ad oggi in cui dei sindaci possono permettersi di dirti a me anche se tu stai in campagna, non va bene che guidi una macchina di sette anni fa tu se non fai come dico io, non ti do più alcun servizio, non ti do più la facoltà di lavorare, non ti do più la facoltà di uscire, non ti do più la facoltà di fare nulla. ed eccolo qui, questo è l'esempio più lampante e naturalmente poi vedendo una gestazione particolare del pensiero di ogni cittadino adesso si vogliono imporre nuovi modelli di vita si è già cercato più volte di imporre il modello che annienta la figura del papà e della mamma abbiamo visto opere d'arte che le vogliamo chiamare opere d'arte io direi che sono opere di blasfemia abbiamo visto una azione secondo me di livello di gravità altissimo abbiamo visto un insegnante che faceva recitare un padre nostro ai bambini che poi sapete che io non sono religioso, non sono credente però naturalmente per la mia inclinazione di vita io difendo le tradizioni della mia nazione io amo le processioni amo quando ci sono le feste patronali amo le chiese amo le messe di Pasqua amo il Venerdì Santo amo la messa di Ferragosto quello che volete voi ma non come simbolo religioso lo ritengo come simbolo di una nazione di una cultura ma se la stessa cosa se io fossi in Arabia sarei favorevolissimo al fatto che in Arabia Saudita che nei paesi arabi non si tocchi l'Islam ma come in India l'Hindu fanno parte delle tradizioni fanno parte delle radici specialmente le nostre radici le nostre radici cristiane di cristianità di gioia perché comunque sia non ditemi che a voi non vi sono mai piaciute le feste padronali non vi sono mai piaciute le fiaccolate votive queste cose qui sono cose simpatiche sono cose che l'Italia porta avanti da sempre sono cose che hanno fatto grande questa nazione le chiese la religione la cristianità e tutto quanto poi non vediamole in sé come credenze in un Dio che ognuno ha il proprio Dio ognuno può credere a quello che vuole e io rispetto tutti però se noi continuiamo in questo modo arriveremo a un punto che affacciandoci alla finestra non vedremo più il nostro paese non vedremo più il nostro mondo non vedremo più la nostra civiltà per questo io sono qui a dirvi se volete cambiare qualcosa iscrivetevi a Motore Italia costa solo 10 euro potete mandare potete chiedermi il modulo a me io sono il coordinatore del Lazio di Motore Italia per tutte le altre regioni d'Italia ci sono altre persone iscrivetevi cerchiamo di noi che abbiamo le stesse idee la stessa mentalità corporiamoci contro questi personaggi cerchiamo di difenderci ancora abbiamo un po' di forze abbiamo un po' di di capacità un po' di possibilità difendiamoci difendiamoci iscrivetevi a Motore Italia e cerchiamo di ritrovare il nostro paese la nostra libertà quella libertà che ha fatto grande dell'Italia ma vi ricordate gli anni 80 benessere gioia denaro sicurezza economica sicurezza di vita le coppie si sposavano facevano figli prendevano un mutuo ma oggi che lo fa più vedete a cosa ci hanno portato vedete a cosa ci hanno portato cerchiamo di corporarci in Motore Italia il mio è un consiglio ognuno può fare quello che vuole se crede che questo andazzo delle cose vada bene purtroppo rimarremo così ci vediamo domani ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti